Andrea Rudelli e Lorenzo Vresciani del Padel Set e School. Ciao, benvenuti! Ciao a tutti, ciao Ro, ciao Ale. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, io stavo dicendo che siete degli eroi perché, spiego un po', voi avete una scuola di padel per ragazzi, bambini. E quindi per me chi lavora con i bambini, sia maestro di scuola, maestro di qualsiasi sport, è un eroe. Perché non è facile lavorare con i bambini e tenerli buoni durante le lezioni e soprattutto farli amare e innamorarsi di uno sport, no? Assolutamente sì. Il nostro caso specifico è proprio sui ragazzi, il focus è proprio sui ragazzi. Non è assolutamente facile, ma è pieno di soddisfazioni. Quindi è una cosa che tutti i giorni ci riempie ovviamente il cuore, ovviamente ci sono un sacco di difficoltà, però è sempre bellissimo lavorare con i ragazzi. Quindi Padel Set School, da quando c'è questa scuola e come è nata? Raccontateci un po'. Allora, Padel Set School nasce nel 2018 a Brescia. Mi sono incuriosito un anno prima del gioco del padel, io giocavo a tennis, male. E da lì ho detto, ho avuto subito una folgorazione per questo sport e da qui insieme al mio amico Lorenzo abbiamo detto ma perché non installiamo due campi da padel e ci siamo avventurati in questo percorso che inizialmente ci ha visto diciamo come gestori di un piccolo circolo ma subito poi forse un po' anche per diciamo io essendo genitore avevo dei figli abbiamo detto assolutamente sviluppiamo la parte giovanile e quindi dal 2018 ad oggi abbiamo avuto un trend di crescita e di sviluppo dalla parte diciamo della scuola per i ragazzi. Lavorate solo con i bambini o ci sono anche, ci fate lezioni anche agli adulti? Allora, inizialmente ovviamente si parla appunto del 2018 per Brescia ma anche per il nord Italia era diciamo il padel era diciamo una cosa poco conosciuta. L'inizio proprio lo conoscevano in pochi sì. Assolutamente sì, quindi diciamo che i ragazzini, la prima scuola c'erano forse sei ragazzi al primo corso che abbiamo organizzato è chiaro che ovviamente abbiamo fatto assolutamente anche tutta la parte legata alle lezioni individuali di gruppo quindi soprattutto agli adulti proprio per creare diciamo un movimento che oggi comunque comincia a essere comunque importante non solo a Brescia ovviamente ma in tutta Italia. Quindi sì, la risposta è sì, abbiamo lavorato soprattutto anche con le lezioni, organizzazioni eventi inizialmente quindi organizzavamo anche dei tornei. Dopodiché appunto abbiamo fatto, quando ci siamo resi conto che il movimento si stava sviluppando e siamo ritornati sulle nostre orme e quindi abbiamo... Sulle origini, eh? Sulle origini, esatto, più che orme, esatto. E quindi ci siamo focalizzati sui ragazzi. E com'è lavorare con i ragazzi? Cioè che dicevi prima, non lo spiegavamo prima, no? Sono soddisfazioni ma è complicato. Cioè io sono mamma, eh? Cioè lavorare con i ragazzi, con i bambini è complicato. Ditemi, la parte bella la sappiamo, l'avete detta, soddisfazione, li vedi crescere, sì, tutto ok. Diteci la parte più difficile di lavorare con i bambini. E convincerli. Avvicinarsi al padel o convincerli di allenarsi? Convincerli ad allenarsi che ci sono altri fattori oltre al gioco perché ovviamente il ragazzino vuole solo giocare, vuole divertirsi e quindi la parte magari più complicata è quella di responsabilizzarli un pochino verso un'attività più agonistica, più legata magari anche alla parte fisica dove quella è sempre meno accettata, diciamo, dai ragazzi. Andare in palestra, no? O correre, o fare roba senza la racchetta in mano. Esatto, quella forse è la parte più complicata. Ok. Però crediamo molto anche che tramite lo sport di riuscire a dare e a far emergere nei ragazzi dei valori. Secondo noi questo è un po' il focus che stiamo dando anche alla scuola. Oltre alla parte formativa legata al gioco del padel, essendo anche uno sport di squadra, ci teniamo molto in maniera particolare anche a trasmettere dei valori e a questi ragazzi di condivisione. Quindi organizziamo anche un sacco di eventi per i ragazzi all'estero proprio per creare un gruppo, una famiglia. Bello. Quello è importante secondo noi. Ma una volta che li avete convinti a giocare a padel, li suddividete in fasce di età? Sì, chiaro. Fasce di età e fasce di livello. Perché comunque, essendo molto giovane, abbiamo degli utenti che sono abbastanza vari, no? Mi può arrivare un ragazzino magari di 12 anni che però ha già 5-6 anni di tennis, è chiaro che magari è molto più avanti rispetto magari ai ragazzi di 15-16 anni che iniziano. Quindi cerchiamo insomma di riuscire a condimare queste cose tra livelli e fasce d'età. Chiedo al nostro meraviglioso Max che è in regia di mandare il primo video, così magari capiamo meglio come lavorate, vediamo qualche ragazzo, bambino, bambina che si allena da voi e come si allena. Io credo, no? Abbiamo avuto sempre ospiti in questa trasmissione tra Gustavo e Spector, uno dei primi, no? Forse che ci ha parlato della importanza di fare numero, che giochino, che siano in tanti bambini o ragazzi a giocare padel, no? Quindi, cioè, come si fa per creare questo numero, per creare questa grande massa di ragazzi che vogliono giocare padel, per far sì che possano poi, che ci sia più probabilità, no? Di che alcuni di questi arrivano a fare professionisti. Certo. Come si fa a creare numero? Molto, molto semplice da dirsi, molto complicato da farsi. Rendere il padel da esclusivo a inclusivo. Quindi oggi uno degli aspetti, una delle problematiche del padel giovanile è proprio legato al fatto che oggi ci sono sicuramente dei costi importanti da sostenere da parte, ovviamente, dei genitori. Solo in quest'ultimo periodo incomincia ad avere un po' di riconoscimento e di visibilità. Quindi il discorso dell'Europa del Tour, del Premier, dei circuiti adesso della FIP. Però sicuramente oggi la grossa problematica è legata al fatto che ci sono pochissimi ragazzi che possono, come dire, accedere a questo sport. Noi facciamo sempre l'esempio, perché comunque facciamo riferimento al modello del calcio e del sistema calcio dal punto di vista nostro organizzativo. della gestione della squadra, del gruppo. Però ovviamente l'aspetto, uno se manda un ragazzo a fare un percorso calcistico, la spesa è decisamente più bassa. E quindi questo rende sicuramente il padel un po' vincolante, o meglio vincola l'accesso a tanti ragazzi. Come si dice sempre, alla fine a calcio e a qualsiasi altro sport, hai bisogno di una palla e andare fuori e giocare con amici a un parco. E il padel hai bisogno ovviamente del campo da padel. E se no, non puoi giocare il padel. Però il tema delle strutture è ovviamente molto importante, nel senso che in Spagna ovviamente i campi, il numero di campi, ma soprattutto l'accesso ai campi è decisamente vantaggioso. Si parla di piste rurali, cioè quindi quelle piste che sono all'interno dei palazzi, all'interno dei palazzi insieme al cortile in condivisione. Io l'ho raccontato qua un po', scusa se ti interrompo, l'ho raccontato perché io, essendo di Madrid, abitavo, avevo una casa a Madrid, nel nostro condominio c'erano due campi da padel. Cioè che ovviamente tutti, tutti due gratis, e quindi quando volevi bastava prenotarti alla portineria dove c'era il ragazzo che faceva tutto e quindi tu dici, oh, domani ci sono io alle 11 e prenotavi, basta. Non uno, due, due campi da padel avevi. Due, due campi, due campi. Ma tutti i condomini nuovi fanno il campo da padel. Se ci hanno spazio fanno un campo da padel. È bellissima questa cosa e fa sì che sia più accessibile, come stava dicendo, scusa, ti ho interrotto. Sì, esattamente, però quello che dici è esattamente corretto, nel senso che sicuramente dobbiamo lavorare sui numeri e sull'opportunità per far sì che i ragazzi si avvicinino e incominciano a giocare a questo bellissimo sport. I prezzi dei campi. Questo forse, non so, Ale, se tu ti ricordi se abbiamo affrontato questo tema, no? No, no. Quando inizieranno a passarsi in Italia? Perché anche questo ha le ride, perché di solito è Francesco che parla sempre di... Di costi, di economia, sì. Di economia, sì. E lui il matematico. Oggi tocca a me, oggi tocca a me. Anche questo, no? Un ragazzino che magari ha la paghetta e deve fare un po' di cose con quella paghetta, magari con gli amici non va a spenderla a giocare, no? Padel, o una parte della paghetta a giocare a padel, perché ancora costa tanto di più con rispetto a quello che costa in Spagna. Quando vedremo, perché io sono convinta, che si abbasseranno i prezzi? Sicuro. Allora, che si abbasseranno i prezzi, sicuro. Probabilmente adesso siamo ancora in una fase dove il padel è più un investimento imprenditoriale e quindi di voler rientrare da questi investimenti. Infatti, noi incontriamo tutti i giorni difficoltà con i circoli proprio per, diciamo, la possibilità di utilizzare i campi e quindi poter fare scuola ai ragazzi perché comunque la priorità è comunque verso chi noleggia il campo, la pista, insomma. Certo. Quindi sicuramente ci vorrà ancora del tempo, anche se di base comunque bisogna cambiare il paradigma. Cioè nel senso che se, diciamo, oggi si tratta più che altro di un'operazione, diciamo, quindi di affitto, quindi di noleggio, io quello che abbiamo visto, diciamo, girando in Spagna, comunque informandoci di base, è proprio l'approccio che va cambiato. Cioè nel senso che dobbiamo approcciarci in modo sociale. Quindi se, tra l'altro, associazione, cioè quindi senza scopi di lucro, che comunque deve, diciamo, ha segnato il reale, scusate. Ha segnato il reale. Si è sentito. Scusa, sì. Si può capire chi ha segnato almeno. Ora qua in regia a casa mia mi dicono chi ha segnato. Rodrigo e Cigo. Si avvicinano. Qui? Rodrigo, dice Max. Bene, Rodrigo, ok, grazie. Uno scarso, insomma. Uno così. Approfitto per leggere due messaggi. Uno mi ha fatto molto ridere sulla chat. Mi ha fatto ridere, ma mi ha fatto anche arrabbiare, perché Italy pade il turbo un beer, eppure non sei diventata forte neppure con due campi in casa. Hai ragione. E questo è vero. E poi l'altro messaggio che volevo leggere è dedicato a voi. Due bellissime persone, li conosco di persona, Bolla da Brescia. Quindi avete i fan anche voi. Scusa Ro, scusa Ro, scusa Ro. Spero ci siano collegati anche tutti i ragazzi. Ecco, ci sono collegati tutti i ragazzi, i bambini, magari se scrivono un messaggino lo leggiamo volentieri, così li salutiamo tutti. Ro, Italy Padeltour dice che non sei diventata forte con due campi in casa, ma loro ti hanno mai visto giocare? No, forse sì. Andre forse mi ha visto giocare. Non ricordo se c'era quando ho giocato a uno dei tornei di Bobo, mi hanno fatto fare una partita esibizione. Non è vero, ho giocato però non so se mi ha visto. Sì, dice mi ha visto. Sì, sì, ti ho visto, ti ho visto. E non è mica quella che ha fatto un per tre, giusto? No. E poi sei uscita a recuperare la tua stessa palla? Sì, sì, sono quella. Poi faccio anche per quattro, poi faccio anche, sì, un sacco di cose faccio, sì, è vero. Sì, dicono di sì, che ti hanno vista. Sì, sì, così. Quindi era una frecciatina mirata proprio. Vabbè, torniamo a parlare. Siamo collegati i primi ragazzi. Davide, Filippo e Stefano presenti. Non so se è un bene questo, eh. No, come sono questi ragazzi? No, sono bravi, sono bravi. Sono bravi. Vedremo qualcuno a fare, perché no, tra un paio di anni qua con noi in collegamento alla Vovotv perché hanno vinto o sono i primi ad arrivare a Premier Paddle? Sì, noi ci crediamo tantissimo e speriamo che prima o poi questo si possa avverare. È molto difficile, chiaramente. Ok, però noi lavoriamo per questo. proprio per cercare di far realizzare un sogno a questi ragazzi perché chiaramente hanno iniziato magari alcuni inconsapevoli, un po' per gioco e adesso cominciano a crederci e quindi spero che qualcuno possa riuscire a sollevare una coppa importante. Io ci tengo, Ale lo sa, a parlare delle donne nel Paddle, no? Perché ci tengo tanto. Sì. Nel mondo, cioè nel settore delle ragazze, bambine, ci sono gli stessi numeri di ragazze che ragazzi o sono sempre meno locali? Stavo proprio per chiedervelo. Come vedete il futuro? Sono chiaramente sempre un pochino meno, ok? Però sta cambiando un pochino il trend, secondo noi. Abbiamo visto che comunque alcune ragazzine cominciano ad appassionarsi e la ragazzina che si appassiona ci mette veramente tutto. Quindi le vedo molto concentrate, molto determinate e questo ci fa molto piacere. E chiaramente fanno anche un pochino da richiamo poi per le amiche che vedono che comunque riescono a fare qualcosa di importante. Alcune competono con i ragazzi, vincono con i ragazzi. Anche un pochino per la loro autostima mi sta facendo molto bene, secondo me, questa cosa. Leggevo poco fa, infatti, che le bambine, le ragazze all'età di 14, 15, 16 anni, tanti smettono di fare sport proprio perché non si sentono in grado di poterlo fare. Perché si vergognano. E questo è un problema. Eh sì. Quindi bisogna che gli insegnanti siano bravi anche a potenziare le sue capacità e a dire potete diventare bravi perché no. E qui entra in gioco il mental coach. Il mental coach ci vuole in questo caso. Ale potrebbe farlo. Comunque fa parte del nostro gruppo anche questa figura di mental coach. quindi stiamo cercando di curare tutto nei minimi dettagli. Quanti maestri avete? Dal nutrizionista, al mental coach, piuttosto che il preparatore atletico. È un team che cerchiamo di inglobare tutto per riuscire poi a creare più che degli atleti, semplici atleti, anche delle persone che poi affrontino anche la vita in un determinato modo. In quanti siete nel team? Tra preparatori, maestri? Sì, di maestri in tutto siamo sette. Ok. Ah. Tanti? Sì. Sì, sì. Due campi? No. Quanti sono? No, allora, lo staff è, diciamo, che diceva prima, nutrizionista, mental e preparatore atletico fanno parte, diciamo, del gruppo degli agonisti. Nel senso che noi abbiamo sviluppato la parte, diciamo, sportiva, quindi padellistica, con la base, quella che diceva Gustavo Spector, o comunque sul quale c'è la scuola base, quindi i ragazzi che si approcciano, che fanno magari una barra due ore la settimana, sul quale stiamo lavorando con circa una sessantina di ragazzi su tre circoli. Ok? Dopodiché abbiamo la parte centrale, quindi il cuore, che sono i ragazzi dell'agonistica, che sono 25 ragazzi, tra ragazzi e ragazze, che partono dal 2014 fino ad arrivare al 2004, come è nata, e dopodiché abbiamo, diciamo, quelle che noi chiamiamo la cantera del padel, che è un progetto sul quale stiamo lavorando, dove i migliori dell'agonistica hanno, diciamo, un, come dire, un plus in più, che sono sostanzialmente dei benefit inteso come allenamenti in più durante la settimana, degli stage, eccetera. Quindi questo è un progetto al quale ci teniamo molto, ovviamente è un progetto dove c'è una richiesta, una sponsorizzazione, quindi ci sono degli sponsor che ci permettono di aumentare, diciamo, gli allenamenti e, diciamo, l'attenzione su questi giocatori. È chiaro che questo è tutto in funzione meritocratica, quindi dalla base ad arrivare alla cantera, ovviamente il ragazzo deve avere sicuramente un potenziale, ma soprattutto un'attitudine e una mentalità per il lavoro e per l'allenamento. È un po' come negli Stati Uniti, no? C'è tipo una borsa di studio che perché sei bravo a fare, no? Ti meriti a fare di più perché sei bravo a fare sport. Cioè io sono molto d'accordo con questa filosofia, devo dire. Sì, in questo caso ovviamente si tratta di sponsorizzazioni private, quindi devono credere ovviamente a questo progetto e quindi in base appunto alla mole di sponsorizzazione riusciamo a fare entrare più o meno dei ragazzi in questo gruppo. E tra tutti gli allievi che avete in percentuale più o meno quanti sono i maschi e quanti sono le femmine? Più o meno. Sì, 70-30. 70-30, ok. Sì. Beh, buono. Max, possiamo vedere intanto mentre parlano un altro video? Ci vediamo altri ragazzi, vediamo se così si svegliano e scrivono qualche messaggio, eh? Guarda Piccini, vedo bei colpi, eh? Nell'altro video si vedeva proprio, cioè, bambini e ragazzi che si allelano e che sanno fare tecnicamente forti. Sì, sì, adesso questi sono i ragazzi, diciamo, 2012, Marco, edo 2011, se non ricordo male, come annata. Ci sono quelli, diciamo, questo era un torneo di qualche settimana fa e quindi è sempre bello ovviamente, come dicevo prima, accompagnarli. Quindi, cioè, l'idea è proprio quella di seguirli, essere sempre accanto e quindi fare coaching soprattutto in una situazione come la competizione. che quindi, eh, è un po', diciamo, la conclusione di un percorso, no? Quindi tu fai l'allenamento due, tre volte alla settimana, quattro volte alla settimana e poi, e poi, eh, spesso i ragazzi, ma anche, anche gli adulti vengono, eh, soprattutto nel pader, come nel tennis, vengono, come dire, vai a fare il torneo e poi mi fai il resoconto di come è andata. Quindi, eh, è chiaro che per noi è un sacrificio importante, eh, però ci teniamo a seguirli anche da quell'aspetto, quindi, della parte, diciamo, del torneo e della competizione. Io dico una cosa, mh, politicamente non corretta. Vai. A me i bambini che giocano così bene mi stanno antipatici. Cioè, è possibile che hanno, cioè, sono alti mezzo metro e fanno il rovescio, io da una vita che provo a farlo per bene questi qua, cioè, guarda come colpiscono la palla, è una roba pazzesca. Vabbè, dai, ci sta, è normale. Quelli che vincono stanno un po' antipatici, però, meno male, meno male. Vedila positivamente. Sì, ma loro sono bambini, non dovrebbe, cioè, io non dovrebbe creare in me un'antipatia, ma invece dico, ma no, non va bene questo, che poi vai te a giocare, tra un po' questi, cioè, tra un po' no, tra un po' ci batteranno, tra un po', contro di me vincono, perché tireranno anche forte. Ecco, la forza è importante ora, perché, ovviamente, hanno meno forza, magari smasciano un po' più, è un po' più lento, non fanno i colpi forti, non possono aggredire la palla, come lo fa un adulto. Come a me. E quindi, come gli insegnate, come fanno a questa età, con le smash e con i colpi più forti? Lorenzo, Andri, non so chi. Lorenzo, vorrei dire. Nel senso che, comunque, noi cerchiamo di aiutarli, proprio con anche la parte atletica, per cercare di rinforzare quello che è proprio la parte muscolare. E poi, sì, è chiaro che, comunque, lo sanno anche loro che determinati colpi vengono anche un pochino con la crescita, quindi accettano e magari cercano di lavorare un pochino di più la palla. Avvicinate un po' il microfono, ragazzi, per favore. Esatto, senza, per forza, frustrarsi, perché, essendo così piccoli, magari fanno fatica a tirare forte. E nei tornei si trovano però uno, magari, più alto, che basta un anno, se vedi tanta differenza, si fa fatica. Eh, sì, quindi combattono anche un pochino contro questa cosa qua. No, però li vedo con un'attitudine giusta, nel senso che la garra ce l'hanno, quindi... Ah, quello non deve mancare mai, eh? Quello non manca, sicuro. Ma le racchette da paddle più piccole che si vedono ogni tanto in giro vengono usate fino a che età? Non le usate? Come... È un buon tema questo, nel senso che, comunque, secondo noi, ad oggi manca un pochino questa offerta, nel senso che le racchette junior, probabilmente sono intese un pochino al contrario, nel senso che, se io guardo, magari, una racchetta junior da tennis, è corta, molto grande, proprio per permettere al ragazzino la facilitazione nel colpire la palla. Certo. Le da paddle, sono piccole, con la racchetta piccola, quindi li metto un pochino in difficoltà. Quindi, a volte, si può pensare, magari, con proprio quelli piccoli piccoli, di usare anche le racchette da mini tennis, per far morire un attimo all'inizio, perché manca, probabilmente, una racchetta sul mercato che sia leggera e che sia adeguata per quelli proprio che, i bambini più piccoli, insomma, che fanno fatica anche a livello di forza. Ma nemmeno quelle delle donne che sono più leggere? Sì, però, comunque, il peso è abbastanza importante. Eh sì. Sì. Sono comunque... Sempre sopra i 300 grammi, o comunque poco al di sotto di 300 grammi, tanto per un ragazzino piccolo. Quindi manca l'offerta. L'offerta muscolare, essendo in crescita, non è il massimo. Quindi, un escamotaggio è quello di insegnare, per esempio, il rovescio a due mani all'inizio, proprio per aiutarmi un pochino. Bisogna parlare con i brand di Padel e spingere questa produzione. Rilanciamo la produzione. Eh, renderebbero felici molte scuole, secondo me. Eh sì.